Però Cioè posso farlo soltanto così No questo è 3400 No ho messo un po' di più HP giusto Sì 3690 Vabbè Anche perché il moveset Cioè praticamente l'ho imparato a memoria Vai fai il costo E di qua non l'ho beccato Cioè l'automira mi funziona Solo quando non mi serve Ora fai i tornati di merda Cioè queste animazioni durano un casino Cioè Allora qua non è andato male Ora cosa fa la porfolla Sì Ok Ok ora deve rimettere Esatto Schiva Porco Giuda Quindi ogni volta non schivano Io non lo so Qua Uno Due E tre Iniziano le palle Uno Due Due E tre Questa Pache Questa Questa Lo so Questa 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 No! No che cazzata va Non me lo schiva Non me lo schiva Non me lo schiva Ok dai abbiamo 42 secondi Sacrificiamo Bennett nel caso Perché Xingqiu e Cosa mi devono rimanere vivi Dai 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 Ok Uh 3690 Anche Ho fatto anche più Del cubo elettrico